Per favore, il gruppo ridarte, andiamo! Ora, avrete notato come un pubblico prezzolato non funziona assolutamente, è ancora peggio, è un pubblico impreparato, incolto. Ora noi ci giochiamo di un gruppo di professionisti, i quali leggeranno sullo spartito direttamente i tempi e gli andamenti delle varie risate. Io dirigerò. Antti anche la vizio-orchestra, per favore, che coadiuverà e darà il timbro, diciamo il contrattempo a tutta la risata. Attenzione, un po', qualche risata, tanto per entrare nel riscaldamento della voce. Grazie, andiamo! No, 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 non scancherate le forze. È meglio dividere, per favore, prima le signore, in falsetto, in tre tempi, in le varie. Prima ve lo eseguo io, poi voi, attenzione. Prego? Tempo, tempo, tempo. distinguere bene le due finale. Un, due, tre, un, due, tre. Prima andante, poi a strappo. Attenzione, da capo. Da capo. Benissimo. I signori adesso, basso, continuo, accelerato. Andiamo? No, prima eseguo io sempre, per favore. Continuo così, via. Stop, un attimo. Coda, eccolo qua. Un, due, tre, lisce. Questa è la coda. Attenzione insieme adesso, tutti insieme, via. Ah 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 4 tempi per favore, imbattere, 4 tempi, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2, chiusa, da capo. I signori, basso, solfeggiato, 1, 2, 3, 4. Continuo, me lo fate per favore. Tempa per favore, lei è uscita di due misure, per favore. Da capo tutti insieme, voi uscite, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, via. Adesso con Brusio, moto quasi boffonchiante, cioè così. Le signore naturalmente, ciarliero, d'accordo? Andiamo. Con parole, attenzione, con commenti. Oh che è simpatico, oh mi piace, è divertente. Ognuno, divertente, avete scritto le parole, divertente, simpatico, veramente spassoso. Voi, gli uomini, veramente spassoso. Vi ricordate? Con risata. Adesso scemando, lo stesso andamento, però scemando, pian piano, quasi a morire. Proprio soffice, attenzione. Ma che spassoso. Risata, strappo, insieme, via. No, per favore, non sporcate, mi dai battute. Cioè, serie, di colpo, da capo. Benissimo. Ora facciamo grassoccio con brio, chiacchiericcio saltellato e risata solista. Lei, signora centrale, attenzione. È inutile che ve lo ripetano, lo facciamo insieme. Prima, borbottare. Via, andiamo. Con strappo. Oh, che spagna. Stop! Solista, andiamo. A morire. Adesso facciamo il furino. Parte sommesso e arriviamo al furino. con manà per un l'altro e applauso. Attenzione, eh. Via, prima sommesso. Riprendiamo col finale. Il furino, deve trascendere l'applauso, dovete finire per terra, d'accordo? Allora, riprendiamo sempre soffice, soffice per favore, raccogliete gli spartiti, per favore, siete a posto? Alla fine dovete lasciare andare tutto per terra, anche gli spartiti devono cadere con voi, attenzione, gran finale, soffice. Ma che simpatico, che divertente, davvero smiricolo, bravo, 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 bravo. Grazie a tutti.